Armato di un grosso piccone, si aggirava per le strade del centro in tarda serata sfondando distributori automatici per rubare merendine, bibite e denaro contante. E' stato arrestato dai carabinieri il presunto autore di una serie di furti con scasso avvenuti nei mesi scorsi a Sanicandro Garganico, in provincia di Foggia. Le manette sono scattate in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP del Tribunale del Capologo Dauno su richiesta della Locale Procura della Repubblica. Ad avviare le indagini sono stati i militari dell'arma a seguito delle diverse denunce esporte a partire dallo scorso mese di maggio da un imprenditore di Sanicandro Garganico, titolare di un esercizio commerciale nel quale erano stati danneggiati e svaliggiati in più di un'occasione alcuni distributori automatici. A mettere i carabinieri sulle tracce del ladro picconatore sono stati i video registrati dalle telecamere di sicurezza installate all'interno del locale che ospitava le macchinette erogatrici di snack e bevande. L'analisi dei filmati, oltre che dei campioni biologici repertati, hanno permesso ai militari di risalire ad un uomo del posto, noto alle forze dell'ordine e oltretutto già sottoposto agli arresti domiciliari per altri reati. In base a quanto accertato nel corso dell'attività investigativa, in due differenti circostanze il ladro, con il volto coperto da un passamontagna, avrebbe sfondato con un piccone ai distributori automatici portando via soldi e merce. Tratto in arresto, l'uomo dovrà rispondere di furto aggravato, porto abusivo di arma, oltre che del reato di evasione. Le indagini dei carabinieri però vanno avanti per identificare il complice che avrebbe preso parte ai furti.